Siamo qui al ROM Startup, il terzo giorno di attività e abbiamo avuto un panel molto interessante su come si può evolvere la cittadinanza per avvicinarla alla tecnologia. Buongiorno a tutti, mattinata meravigliosa qui a Roma in un posto speciale. Oggi abbiamo parlato come Cisco attraverso lo sviluppo delle sue piattaforme può essere il gate tra la tecnologia e i servizi per i cittadini e abbiamo presentato la nostra visione delle nostre piattaforme che devono essere semplici, aperte, programmabili e sicure. Ecco in questa logica abbiamo ragionato con le ragazze, con i ragazzi, con gli studenti ma anche con gli appassionati di open government insieme all'assessora Flavia Marzano di come rendere più semplice la vita dei cittadini attraverso la digitalizzazione. Perché la digitalizzazione non passa necessariamente per degli step molto alti ma si tratta più di riuscire a coinvolgere lentamente le diverse amministrazioni in modo da farle convivere con le nuove tecnologie, cioè guidarle verso le nuove tecnologie. Sì, oggi abbiamo proprio ragionato su quanto la tecnologia sia disponibile ma anche quanto sia importante includere per un'amministrazione i cittadini in questo percorso e soprattutto come riqualificare il personale delle pubbliche amministrazioni per meglio accogliere questa straordinaria opportunità che ci dà la tecnologia. Ecco noi pensiamo proprio che concentrarsi sulle competenze, concentrarci sull'ambizione che deve avere un'amministrazione per creare nuovi servizi più semplici per i cittadini sia un po' l'ambizione non solo di chi produce la tecnologia come noi ma anche dell'amministrazione e anche di un paese. Tra i vari discorsi che sono stati fatti uno dei vanti di Cisco è anche quello della protezione del cittadino, difendono costantemente i dati del cittadino. Ci può dire qualche cosa di più su questo, qualche numero? Sì, pochi sanno che Cisco è il più grande ethical hackers al mondo, quindi abbiamo un'organizzazione che si chiama Talos, sono 250 tra ragazze e ragazzi, studenti e studiosi della cyber security che ci difendono dai cattivi. I numeri sono incredibili, considerate che ogni giorno blocchiamo più di 20 miliardi di attacchi su scala mondiale. Questo per dire quanto il tema dello sviluppo delle nuove reti di internet sia chiaramente in parallelo supportato da una fortissima attenzione di Cisco sul rendere più sicuri i cittadini e le imprese da attacchi informatici. Stiamo cercando di far rinascere una comunicazione con le persone abbattendo tutte quante quelle che sono le barriere della pubblicità, del profiling, di tutto quanto nel modo più etico e possibilmente politically correct possibile. Non abbiamo pubblicità, non abbiamo niente, però abbiamo la possibilità di chiedere a qualcuno che si occupava di riviste quando ancora erano cartacee la sua impressione. Innanzitutto complimenti per questo nuovo progetto e nasce quindi una nuova start-up, quindi in bocca al lupo e buon futuro. Io ho studiato su PC Magazine, quindi ho un sacco di ricordi e di impressioni di sfida tecnologica e di capire come evolveva la tecnologia e mi auguro che anche questo nuovo percorso che ha una parola per noi fondamentale che è l'etica, che è la responsabilità sociale, e quindi sono i valori che rappresentano tanto della cultura Cisco. Quindi in bocca al lupo e vi auguro veramente un grande futuro e un grande successo.